Buonasera. Guardi, c'è fame di Made in Italy. Io ho una fame di Made in Italy, guardi. Presidente Montezemolo, buonasera. Io ho tanta fame, buonasera. Buonasera, tanta fame. Dunque, il Presidente... no, prego, un applauso. Il Presidente Montezemolo. Mi ringrazio, mi ringrazio. C'ho le braghe, è scivolo. Io... Sono bravo. Mi scusi. Non è Made in Italy, questo ti sa dove l'hanno fatto. Credo sia Made in Italy. Dovevate mettervi d'accordo. I costumisti con la scenografia. Ce l'hai un asciugamano? Non so se avete un asciugamano, va bene. Il Made in Italy. Però ecco, alla fine avete venduto MTV, no? Guardi, non mi dica niente, sono in lutto. Un altro pezzo del nostro paese che se ne va, che profonda tristezza, guardi. È un po', insomma, però... Italo, la mia creatura, la mia bimba. Vabbè, adesso non esageri. Una bella storia italiana, ancora adesso, quando ne parlo mi emoziono. Guardi, mi viene il braccio di Kashmir Doca. È la pelle Doca. Pensare che nel 2006 io, Diego della Valle, siamo partiti con niente. È un'idea, una semplice ma rivoluzionaria idea. Fare il grano con i treni. Vabbè, non era poi così rivoluzionaria. Eravamo come un po', come Vonziak e Steve Toads. Jobs, Steve Jobs. Comunque è un po' diverso perché Jobs era partito da un garage. Ma anche noi, sa? Ma anche noi siamo partiti da un garage. Ma anche noi, sa? Lo tengo. Poi dal garage abbiamo preso il Ferrari California. Siamo andati da Passera, negli uffici d'intesa a San Paolo, capisci? Ah, ecco, insomma. Siamo partiti da zero. Ci spingeva solo un grande orgoglio. Sì. Questa smagna di fare. Certo. Pensi che all'inizio io non sapevo proprio nulla di treni. Ah, beh, certo. Poi piano piano. Eh, ha cominciato a imparare. No, mi sono rassegnata l'idea di non saperne un cazzo. Ma quanto mi piange il cuore per la vendita. Quanto mi piange il cuore per la vendita. Va bene, dai, ormai è andata. Senta, invece, se... No, si può non telefonare che magari... Scusi un attimo. No, ma se... Mimiamo la chiacchierata. Emma? Ma non telefono. È arrivato? Cosa sta... Ancora niente? Scusate, non si... Ma nell'estrato conto dovrebbe esserci già, no? Va bene, se non si è controllato. Chiama a Cataneo, chiedigli se a lui è arrivato qualcosina. Grazie, scusa, eh. Ma cosa controlla? Eh, no, niente, dettagli inutili della trattativa, sa come funzionano queste cose, scartoffie d'avvocati, ma non voglio annoiarla. No, no, ma guardi che... Ma quanto mi dispiace di aver venduto qualcosa. Mi dispiace, però... Ecco, la vendita lei pare abbia fatto un affarone, no? Ma guardi... Insomma, mi sembra... Ho letto che qualche feticista del Sole 24 Ore si è messo a fare un po' di conti della serba. Può darsi che io ci abbia pure guadagnato qualcosina, ma Bruscolini confronto al dispiacere per questo Made in Italy che se ne va a pezzo dopo pezzo. Sì, ho capito, però Bruscolini non direi perché si mette in tasca 240 milioni, no? No, no, sto cazzo, sono 246. Vabbè, appunto, appunto. Ma che dispiacere però, ma che dispiacere però... Ma lasci stare, non te le... Eh, ma sono arrivati? Ma non stia adesso a controllare. Scusa, ma quanto ci metto un bonifico? Ma arriverà lunedì. Aspetta che chiedo un attimo. Scusi a lei, quando gli arrivano 426 milioni lì dopo, quanto arriva? No, a me non capiterà mai. Lasci stare, lasci stare. Arriveranno lunedì, senta. Arriveranno lunedì! Vabbè, adesso è venerdì, è probabile. Comunque la vendita però non era l'unica opzione che avevate, no? Potevate quotarvi in borsa, come aveva suggerito Padoan, no? Padoan voleva che... Chi? Padoan voleva che voi vi quotaste... Non conosco questo amministratore delegato di cui mi parla lei. Padoan è il ministro dell'economia ancora, insomma... Ah! Ah! E dove era Padoan quando avevamo bisogno di aiuto? Dove era lo Stato quando nel 2014 stavamo fallendo? Ma non doveva fare... Quando ci stracciavamo i vestiti disverati? Ma no... Dov'era? Nessuno ha alzato un dito. Vabbè, lo Stato... A parte le banche, gli amici, gli amministratori delegati e un'accordata di imprenditori. E beh, insomma... Nessuno ci ha aiutato! Eh... Orfani dello Stato, ecco cosa stiamo... Bastardi! Ma Presidente Montezé, non è da lei, adesso cos'è? Adesso capisco, adesso capisco, guardi... Non prestato... Quelli che scendono in piazza e spaccano tutto! E fanno bene! Ma lasci stare... Dimmi, è arrivato? Ma che cazzo però? Ma stia cazzo! Cosa? Volevamo sapere... Curiosità noi... Bastardi! Sì, basta! Ma volevamo sapere noi comuni mortali... Ma ci spiega bene come è andata la trattativa con gli americani? Guardi, io non volevo vendere! Ho capito, lei non voleva vendere! Io non volevo! Lei non voleva vendere! Cattaneo non voleva vendere! Ma allora perché avete venduto? Com'è andata sta trattativa? Siamo andati lì, Gagliardi! Ecco, sì! C'eravamo tutti! Io, Giorgetto, Diego della Valle, Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli! Sabrina Ferilli perché? Cattaneo si è voluto portare la moglie per fare scena! Ah, è vero, è la moglie di Cattaneo! No, no, no! E poi? E poi cosa è successo? E poi siamo entrati, ci hanno bombato di grano... Guardi, una migliore... È proprio svanita! È proprio... Che impeto questi americani! Oh, che dispiacere per il Made in Italy! Adesso non faccio anche le mani... Nelmeno il tempo di dire due miliardi che si sente patapumpa! Cosa era? Era svenuta la feriglia! Ah, beh, in effetti sono tanti soldi, eh! Io glielo dico sinceramente, io cifro del genere le vedo solo due o tre volte l'anno, guardi! È piatto lei! Ma che dispiacere per il Made in Italy! Io non volevo vendere! Bastante! Ma va bene, però senta, com'è possibile che gli americani abbiano comprato un prodotto con 430 milioni di debiti? Lo so, guardi, potevamo fare di meglio, non abbiamo avuto il tempo di arrivare a 450! No, no, no! L'obiettivo era raggiungere i 500 milioni entro il 2020, eh! No, ma no, no! Comunque siamo partiti da zero debiti e in pochi anni ne abbiamo raggiunto a 430! Ho capito, ma non è! È già un risultato invidiavole! No, non è un risultato! Da mesi mi dicevano, Luca siete in rosso! E gli dicevo, vai! Guardi che essere in rosso non è positivo, eh! Ma no, sì, cosa sta dicendo? Rosso Ferrari è una cosa positiva, essere al verde è negativo, dai! Ma no, ma cosa c'entra, non c'entra niente! Come no? Mi spieghi bene questo giochino dei coloni che può tornarmi inutile? Ma non è un giochino? Senta, ma come hai fatto a portare avanti una trattativa in questo modo? No, ma infatti no, parlava la Ferilli, eh! Ho capito, è lei che... Anche perché il mio inglese è un po' scolastico, mi scusi! Ma che dispiacere per il Made in Italy! Eh, ma è arrivato a loro o no? Mamma mia! Entra nel sito, entra sul sito della banca, la password dovrebbe essere Italia 90, tutto attaccato, dai! Ma che sarà la password? Scusi, ma io devo andare in fondo a questa storia, chiamo direttamente gli americani! Ma lasci stare, guardi, si arriverà lunedì o martedì... Hello! Yes, I'm Luke Corder of Montezemol! Mister Made in Italy, do you remember? Si Ah, yes, 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 the elegant man, long hair, yes... Capelli lunghi Hanno capito Hanno capito, bene, però... Excuse me, American friend, last week I gave you my e-bank Ma ce l'avrà, l'e-bank, è brutto! But for a moment, nothing! No, arrived in my unicredit call! Ma chi, non ne dà, l'avrei... Ok, ok, sorry, no problem, dice che devo aspettare... E just another question, friend! Non esageri, eh, con gli americani... Do you have other money? No, 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 si chiedono! No! Mi lasci fare per favore... No, ma non chiedono solo! No, because in Italy, we have a lot of Made in Italy, we have a company of planes All'Italia... No, 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 no! A lot of debits? No, no... Spreco money? Si... Are you understand? ¿You understood? Interesting... Interested? No, no, all'Italia... Ah, no? Ok, sorry... Frau Poltras? No, lasci stare, ya, già... Cisano drink? No, 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 no... Andrea Andalone... Grazie.